Sul Mestre mi sono già espresso. Quando c'è un poppate di famiglia cosa fa? C'è un quadro finanziario da tenere presente e sulla base delle necessità valuta se andare o meno in banca. In questo momento siamo concentrati sul recovery fund. Se il quadro di finanza pubblica rendesse necessario un supplemento ovviamente di risorse, lo valuteremo insieme al Parlamento e ci confronteremo. L'apertura dell'opposizione dice che il recovery plan non viene coinvolto. Come non viene coinvolta? Abbiamo appena elaborata la prima bozza delle linee guida, l'abbiamo mandata in Parlamento, l'opposizione è anche in Parlamento. Siamo disponibili adesso a valutare il confronto, ma deve essere il Parlamento che deve dirci le modalità con cui esaminerà queste linee guida, Camera e Senato. Io sono disponibilissimo ad andare quando e come mi diranno. Quando riferirà in Parlamento? Non dipende da me. In caso altrui si viene invitati e ci si confronta sulle modalità, ma io assolutamente auspico anzi che il Parlamento, come sicuramente farà, compia e svolga un'ampia attività istruttoria e ci dia quindi un'interlocuzione col Parlamento sarà sicuramente utile per migliorare sia le linee guida e poi quando entriamo nella fase dei progetti concreti per migliorare anche i progetti.